Siamo con Coach Condello, è cominciata ufficialmente la campagna sportiva 2018-2019 per la Costa. Iniziamo Coach con la prima uscita stagionale, anche se non un testo ufficiale, ovviamente contro l'Orlandina. Che partita è stata? Ma è stata una partita dura, loro sono stati dall'inizio aggressivi, il primo quarto abbastanza bene, poi abbiamo subito questa aggressività, ci hanno messo le mani addosso e non siamo riusciti a reagire. Ho visto segnali positivi, chiaramente anche segnali negativi, venivamo da una settimana dove Santino, il preparatore, ha caricato tanto e secondo me un po' ancora avevamo le gambe pesanti, ho visto la squadra poco reattiva, ma chiaramente abbiamo ancora più di un mese prima del campionato, faremo tante amichevoli, quindi c'è tempo per lavorare sia per quello che concerne la parte tattica e tecnica che sia per quello che concerne la parte fisica. A tal proposito, secondo te, a che punto è questa squadra? È normale che ci sia ancora molto da lavorare, però come hai detto tu ci sono anche delle cose positive. Sì, qualche giocatore è ancora indietro, è normale che la squadra sia praticamente nuova, non siamo riusciti ancora a collaborare bene, i sistemi offensivi hanno avuto difficoltà, non c'era fluidità in campo. È la stessa cosa in difesa, si è parlato poco, abbiamo collaborato poco, come ho detto prima, quindi faremo sicuramente video su questa partita e cercheremo di migliorare per subito mercoledì quando giocheremo contro la Viola. Si ricomincia ufficialmente il 7 di ottobre, sei soddisfatto del roster costruito e quali possono essere gli obiettivi di questa squadra? Gli obiettivi, l'abbiamo detto subito, sono quelli di una salvezza tranquilla. Sono contento del roster, ci sono delle scommesse, speriamo di vincerle, dovrò secondo me motivare più del dovuto, forse qualche giocatore, qualcuno viene anche da infortuni pesanti, quindi praticamente da un anno di stop, quindi ritornare a giocare non è semplice, quindi c'è da dare fiducia, c'è da lavorare in palestra, ma sono convinto che faremo bene.